Prova Piacentini, respinge Kutowski, Hesler a cercare ancora Carnevale, Schultz, poi Mikhailovic con il destro, è un gol tra i più belli, Mikhailovic con il destro, incredibile, al ventunesimo minuto, Roma in vantaggio, uno degli shoot più belli visti sicuramente in questa stagione, Roma 1, Borussia Dortmund 0. Le magie del calcio, tutto mancino, Mikhailovic ha trovato un gol straordinario con il destro. Grande spettacolo adesso in Curva Sud.